Scusate siamo di nuovo in onda Sono stati dei terribili problemi tecnici Che ci affliggono E ci continuano ad affliggere direi Durante tutta la puntata Ora abbiamo optato per uno stream Leggermente meno di qualità Dunque ci sentirete sicuramente peggio Però purtroppo sono i rischi Di un mestiere che non è sempre facile Soprattutto se non si hanno le frequenze Dunque questa è una trasmissione via internet Ci stavate ascoltando in tanti E spero che ci possiate ancora ora Ascoltare in tanti Il ping rimane ancora un po' alto Ma ora la qualità si è abbassata E speriamo comunque di garantirvi Un buon Tutto sommato un buon servizio Dai Eravamo rimasti sostanzialmente Alle presentazioni I contatti vi ricordo su Twitter Chiocionina Radio Granata Su Facebook e altri Radio Granata semplicemente Domenica su Sport Talk Ci sarà Jimmy Fontana Dunque ricominciamo da qui Giacomo Non c'è bisogno di troppe introduzioni Parti subito a parlare di Toro Fiorentina Sì Dai comunque dicevamo già prima Che siamo davvero contenti Di ospitare Jimmy È una grande opportunità E chiaramente lo ringraziamo Già in anticipo Ma passiamo alle cose di calcio Che sono quelle che più ci interessano È una bella sfida Quella che c'è domenica Peraltro in un orario Che il Toro ha dimostrato Di non gradire particolarmente Storicamente come risultati Ossia Quello delle 12 e 30 Una sfida che Vedrà di fronte una squadra Che ha bisogno di riscattarsi Come Torino Che viene dalla prestazione Non esattamente positiva Di Parma Dunque Dovremmo cercare di dimostrare Quanto meno di esserci ripresi Dal punto di vista del gioco Perché poi si sa Quando si affrontano Squadre di un certo calibro Come appunto la Fiorentina Può bastare un episodio A rovinare tutto E dunque A condannarci A una sconfitta Eventuale Però ecco L'essenziale È ripartire Da dove ci eravamo fermati Ossia Dal bel gioco Espresso Nel mese di dicembre Quindi È importante Che il Torino Riesca A giocare Una buona partita E dovrà sfruttare Le devolecce Della Fiorentina Una squadra Che ha dimostrato In questi anni Sotto la guida Di Montella Dal 2012 Di essere tornata Davvero Una delle grandi Di questo campionato Grazie anche Agli acquisti Importanti Che sono stati fatti Dal nuovo Direttore sportivo Pradè Insieme al suo Fido Collaboratore Marcia Dunque giocatori Come Gonzalo Rodriguez Roncaglia Borja Valero Joachim Pisarro Ambrosini Insomma Sono tutti Ilici Sono tutti giocatori Che si stanno rendendo Davvero utili Alla causa Ovviamente Senza dimenticare Colui che è Attualmente Il capo carboniere del campionato Sia Giuseppe Rossi E Mario Gomez Che purtroppo Non ci saranno in questa sfida Ovviamente purtroppo Per la Fiorentina Anche se Dal lato granata Di questa partita Potremmo essere Sicuramente Molto più contenti Pepito Rossi Non ci sarà A causa dell'intervento Da macellaio Di Rinaudo In Livorno Fiorentina Fortunatamente Non è stato Troppo grave Per lui E quindi Riuscirà A rientrare Nel giro Di un paio di mesi Probabilmente A pieno ritmo Però È chiaro Non ci sarà Per la sfida Contro il Torino E non ci sarà Neanche Mario Gomez Che è sulla Giusta strada Per recuperare Dall'infortunio Ma Non è ancora Riuscito A allenarsi A pieno Con la squadra Dunque Non è ancora Rientrato A pieno ritmo Allora Lo possiamo Considerare Ufficialmente Fuori dal match È difficile A questo punto Anche che Venga convocato Allo stesso modo In dubbio Anche Manuel Pasquale Esterno sinistro E capitano Di questa squadra Una di quelle bandiere Ormai sono Quasi dieci anni Che è alla Fiorentina E sarà dunque Importante Riuscire a sfruttare La Diciamo Le grandi assenze Che ci sono Nel reparto Offensivo Pensate Che avranno A disposizione Come punte Soltanto Ante Revic Giovane Serbo E Raider Matos Che ha fatto Cose discrete In questa stagione Appunto Giocando Anche Diverse partite Per via Delle assenze Numerose Appunto Nel reparto Avanzato Per quanto riguarda L'attacco Comunque sia I giocatori offensivi Perché ormai Non si può Più neanche Quasi parlare Di attacco A disposizione C'è anche Alessandro Giacomenko Che però Ha davvero dimostrato Di essere inadeguato Per la serie A Ci sono soprattutto Ilicic e Joachim Che mi aspetto Di vedere Titolari Nel match Appunto Contro La Contro Torino Proprio perché Sono le ultime Soluzioni Che ha a disposizione Montella Per crearci Qualche pericolo Dal punto di vista Offensivo Dunque È probabile L'inserimento Di questi due Giocatori O Uno soltanto Dei due Perché Joachim Potrebbe anche Essere dirottato Sulla fascia Destra Di centrocampo Con Vargas Che probabilmente Sostituirà Pasqual E dunque Dovremmo Stare attenti Appunto Alla ritrovata Averbi Josipilicic Che dopo Un inizio Difficile Sembra Essersi Ritrovato Nell'ultimo Mese E dunque Potrebbe anche Eserci l'utilizzo Di Rafal Volski Che però Ha giocato Nella partita Di Coppa Italia Che la Fiorentina Ha vinto Per 2 a 0 Sul Chievo Dunque Oppure anche Di Mati Fernandez Dunque Una formazione Tutta da scoprire Che sarà difficile Prevedere Fino proprio Al momento In cui Non si scenderà In campo Perché Davvero Delle alternative Ci sono Però sono tutte Alternative Tra virgolette Spuntate Perché Non si tratta Di attaccanti furi Ad eccezione Di Rebic Che però Non è in gran forma E di Matos Che però Non è una prima punta Chiaro Dunque Una Fiorentina Che arriva Ripetiamo In emergenza Soprattutto In attacco Una Fiorentina Che è stata Come hai detto Te Veramente Sfortunata Prima Mario Gomez Che si è infortunato Mi pare La quinta giornata Sesta E poi Rossi Che si è infortunato Purtroppo Ne avrà per tre mesi Che è dunque Una Fiorentina Che si trova Improvvisamente Senza punta Dunque Abbiamo fatto Una piccola Diciamo Cernita Sulla squadra viola E' tempo Adesso Di farne Una sul toro Su di noi Perché anche noi Non arriviamo Al massimo Della nostra forma E penso proprio Di no Saranno Sarà una formazione Tutta da inventare Anche per il Torino Sebbene Ciò non sembri All'apparenza Eppure Dobbiamo considerare Le scorie Che ha lasciato La partita di Parma A quanto pare Ventura Non aveva tutti i torti Quando diceva Che Cerno Diversi infortuni Che hanno costretto A togliere Ciro Immobile Alessio Cerci L'intervallo E infatti Sono rientrati in gruppo Soltanto oggi E Per questo motivo Dobbiamo considerare I nostri gemelli Del gol Completamente In dubbio Per la sfida Di Domenica E allo stesso modo Anche Alexander Farnerud Che soffre Di una ricaduta Sempre di questo Infortunio Al flessore Della Gamba sinistra Dunque Una fastidiosa Ricaduta Che potrebbe Sicuramente Non toglierlo Dai convocati Perché Ha recuperato E ha ripreso L'allenamento In gruppo Ma Certamente È difficile Vederlo In questo momento Tra i titolari E per questo motivo Sarà una partita Difficile anche per noi Perché perdiamo Tre dei Nostri Praticamente Tre dei giocatori Fondamentali Della nostra squadra In difesa Nessun problema Anzi Potrebbe esserci La riconferma Della linea tre Maximovic Glick E Moretti Eventualmente Con Un ballottaggio Tra Maximovic E Rodriguez Oppure Tagrick E Rodriguez Ma sembra difficile In questo momento Che Possano Essere tolti Diciamo Le posizioni A titolare Agli attuali tre Che comunque sia A Parma Non hanno disputato Una brutta partita Quindi È stato soprattutto Il centrocampo A Parma A calare Di Esponenzialmente Anche Di rendimento Dunque Se il reparto Arretrato Insieme al portiere Padelli Seppur con qualche Dubbio Acuito Anche dalla Pessima prestazione A Parma Dovrebbero essere Confermati Comunque sia I problemi Risultano Per il centrocampo Risultano essere Appunto Soprattutto Per centrocampo Attacco Direi Darmian e Pasquale Confermati Perché la loro Condizione fisica È buona Soprattutto Quella di Darmian Per Pasquale Invece Solo la condizione Fisica buona Non quella mentale Purtroppo Ci aspettiamo Ancora Segni di riscatto Da un giocatore Che potrebbe fare Molto di più Di quello Che sta Attualmente Facendo In maglia Granata Per esempio Correre Per esempio Correre 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 Veloce No Invece Esatto Perché Se noi Guardiamo la prisa Di Parma Una cosa Davvero Che mi ha sorpreso Di cui sono rimasto Molto male Io non ho visto Una volta Pasquale Non so se Hai avuto la stessa Impressione Anche tu Dalla Televisione Non ho visto Mai Pasquale Andare a rincorrere La palla Non ho mai visto Pasquale Essere lanciato Palla lunga Ma l'han capito Sempre Ad aspettare La palla Sulla linea Di centrocampo Lui Se ne sta fermo lì Finché qualcuno Non Diciamo Non desidera La sua collaborazione Quasi Richiede in carta bollata Che Pasquale Si svegli E poi Spedisce il passaggio Poi Pasquale Prova qualche Solitamente È stato così Una volta Ha provato una finta E se l'è presa Diciamo Ha avuto grandi delusioni Da Cassani Che gliela ha tolta In modo abbastanza Banale la palla Quindi Non lo so Da avere una prestazione Incomprensibile Da punto interrogativo Di Pasquale Ci aspettiamo Che contro la Fiorentina Ci siano dei miglioramenti Perché veramente Altrimenti Si dovrà tornare Sul mercato Con dei criteri Di emergenza grave Anche se Come ben sapete Trovare esterni Sinistri Non è cosa facile In questo momento Sì Soprattutto considerando Che ormai Sembra che il calcio Moderno Si sia mangiato I terzini Perché Tiene sono sempre di meno È stranissimo Siamo arrivati al punto Di considerare La convocazione Di Darmiani Nazionale E per quanto io Voglia bene A Matteo Perché sia veramente Perché è veramente Un gran giocatore È un giocatore Che si impegna sempre Il suo livello Non è da nazionale Dunque Questo dimostra Quale sia La penuria Di terzini In Italia Ma anche nel mondo In questo momento Dunque sicuramente È sensibile La ricerca Di un terzino Per qualsiasi squadra Non solo per il Toro Esatto Procediamo Sì vai Giacomo Lo dicevo Se a destra Possiamo dire Di avere un po' Più di scelta Non tanto nel Torino Ma quanto in Italia Bene o male Sta crescendo Desciglio Abate Qualcosa di buono C'è a destra A sinistra Davvero C'è una penuria Clamorosa E trovare Sostituti Di livello di Pasquale È davvero difficile Comunque giusto Per finire il discorso Di prima Non ci sarà Vives Cosa Da un lato Importante Perché è stato Un titolare Fondamentale Per Ventura In questo inizio Di campionato Dall'altro lato Ha bisogno di rifiatare Perché a Parma Non ne ha presa una Veramente Credo il peggiore In campo Sì Sono abbastanza d'accordo Anche perché Vives Veniva veramente Da delle prestazioni Ottime E dunque Diciamo che il crollo È ancora più Mal accettato Diciamo Comunque Abbiamo parlato Di stanchezze Si può dire Che è stanchezza Quella che ha Portato Vives A fare Una prestazione Veramente Ai limiti Della realtà Ai limiti Della Lega Pro Per cui Dovremmo vedere Un po' Per il centro campo Perché vi dicevamo Non c'è Vives E' arrivato Taxidis Oggi è stato presentato Ricordiamo Esatto Oggi la presentazione Di Taxidis Con la maglia Numero 77 Se non sbaglio Un giocatore Che per ruolo E' il sostituto Naturale Del mediano Napoletano Però appunto Non ha Chiaramente La conoscenza Degli schemi Di ventura Dote che Richiesta Fondamentale Appunto Per Per essere Titolari Nel Torino Dunque Non è E mi sembra Davvero difficile Che venga schierato Già con la Fiorentina Titolare Anche se la penuria Di centrocampisti Potrebbe portare A decisioni Davvero Diciamo Inaspettate Ricordiamo Che ci sarà Basce e Gazzi Ci sono Gazzi Chiaramente Non in forma C'è Brighi Che però Ha trascorso La partita di Parma Anche lui Dalla panchina Dunque Potremmo vedere L'inserimento Di Brighi Nel centrocampo Magari Al posto di Farnero Perché Ricordiamo Che se sarà Recuperato Difficilmente Sarà per essere Da titolare Proprio perché Non c'è Una Appunto A questo problema La coscia sinistra Che se Venisse sottovalutato Potrebbe portarlo Di nuovo A star fuori Un altro mese E diciamo Che non sarebbe Il massimo Quindi Potremmo vedere Per il nuovo Brighi titolare Quadiuvato Da uno Tra i due Mediani Bascia Ogazzi Se non Tutti e due E poi Chissà Taxilis Oppure Bellomo Per un centrocampo Un po' più Offensivo Chissà Ovviamente Ad uno Del canduri Titolare In mediana Ancora meno Quindi Se ci fosse Sarebbe più Probabile Un sutilizzo Da trequartista Magari Coadiuvato Dietro Da un mediano Di rottura Come Bascia E un giocatore Un po' più Di qualità Come Brighi Avrebbe Sarebbe Un centrocampo Diciamo Che potrebbe Essere Soddisfacente Però Ecco Davvero Vige il punto interrogativo Sulla formazione Granata Anche per l'attacco Cerci Immobile Sono usciti davvero Malconci Dalla sfida di Parma Presunti Malconci Esatto Presunti Malconci Però Immobile Si è riaggregato Soltanto oggi Dunque Sembra Difficile Vederlo Partire Titolare Anche se Ventura Sarà convinto Dalla sua Condizione fisica Potrebbe Eserci anche Da primo minuto Contra Fiorentina Altrimenti Barretto Omeggio